E spero davvero che questo passaggio musicale la dica lunga nei vostri cuori di come i miei figli sono arrivati a portano, di come i miei figli hanno invasso le città di morano, di frutto, di saccambio, di professione si siano passati alla linea, di salto e vento, si siano assaliti in montagna, in barattina, si siano parlati in barattina, agliolo giusto con l'ordino e oggi si siano ritrovati in prova per non prestaggiare con il cuore delle armi, con il cuore delle volumi, con il cuore delle nuova per prestaggiare questa cultura, la villa che ci ha parlato in barattina e noi ci vediamo da mandare, da fare i miei figli bravi voi ragazzi, tantissimi, guardate che infinità sono gli api tra i gianni che ci hanno raggiunto mamma mia ragazzi che bella festa, state facendo vedere il capello che portate, ma prima ancora al servizio militare che vi ha visto non sono sempre come stigiontare, ma coprima le cose dei nostri paesi, dei nostri liberi